Paolo Di Paolo, benvenuto, bentornato, scrittore, finalista di treno strega, conduce la lingua, batte su Radio 3 e in libreria, il suo ultimo libro, Rimembri ancora per il mulino. Allora, rileggere le poesie studiate a scuola? Sì, secondo me sì, perché le abbiamo lasciate lì che dormono. Se io facessi un esperimento, adesso non voglio improvvisarlo troppo, però se dicessi la nebbia agli irticolli, immagino che il pubblico saprebbe completare, no? Pioviginando sale. Non andiamo troppo nel dettaglio. No, pioviginando sale. Pioviginando sale. È facile che... E sotto il maestrale. E urla e biancheggia il mare. Otto persone su dieci che hanno fatto le scuole in Italia conoscono questi versi. Sono rimasti lì, in un anfratto della nostra memoria. Secondo me rileggerli da adulti, provare a rimettersi davanti Carducci, Pascoli, Montale, Foscolo, attraverso un'esperienza diversa della lettura, perché naturalmente è un'esperienza adulta. Io credo che possa servire a darci la sensazione che in questo bagaglio che ci portiamo dietro dalla scuola c'è qualcosa che può ancora parlarci. Serve a qualcosa, è fecondo. Lei dice che guardando l'Ucraina mi ha tornato in mente Ungaretti. Sì, perché ecco, per esempio, quando tu usi una lente che sembra una lente remota, ma quella lente riesce a mettere a fuoco la stupidità e l'orrore della guerra in ogni tempo, la parola esatta della poesia infilza quella verità. E Ungaretti al fronte, l'abbiamo imparato davvero a scuola, dice qualcosa che ha a che fare con la notte sventrata dai bombardamenti. L'insensatezza di quella esperienza riesce a distillarla, diciamo, in versi brevissimi, abissali, che facevano anche la gioia degli studenti, perché erano tra i versi più brevi che fossero stati mai scritti. Sì, erano facili, dice, dimmi la poesia di Ungaretti era una cosa. Leopardi, Pascoli, come li hai recuperati? Li ho recuperati provando a creare dei cortocircuiti anche col contemporaneo, provando cioè a passare da altri autori e forse rompendo anche degli schemi. Anzi, posso dirle che ho scoperto che lei è un pascoliano di stretta osservanza e quell'altro nessuno... Mi è capitato di recuperarlo, non... Beh, nessuno se lo aspetterebbe. Non mi immagino a livello del suo del prossimo ospite, però c'è un'idea strana di Pascoli. Le ho sentito evidenziare, ecco, che c'è un aspetto dark in Pascoli. Il poeta Melenzo, il poeta Dolciastro, è un'immagine un po' convenzionale, un po' conformistica. È un poeta del perturbante, è un poeta dell'inquietudine, della notte, dell'oscuro e di una voce che ti perseguita e forse viene anche fuori dal tempo. La morte di Napoleone. La morte di Napoleone puoi leggerla semplicemente come un editoriale in versi. Manzoni bisogna immaginarlo come uno che arriva in una bottega di libraio a luglio, gli dicono a luglio che Napoleone è morto a maggio. Questo per dire le notizie quanto ci mettevano ad arrivare. Ha un mancamento, torna a casa e scrive letteralmente a tamburo battente e i fussi come immobile e tutti adesso la diranno a memoria. E in realtà è veramente... E qua già la reazione è un po' più... Un po' meno forte. Ed è un... Dato il mortal sostituito. Steppe la spoglia in memoria. È un editoriale in versi, è l'articolo di fondo in cui riassume la parabola di un uomo. Perché non ci piacciono quando li studiamo a scuola? Non ci piacciono o comunque le sentiamo lontane perché è lontana quella lingua. Perché è una lingua aspra, a volte addirittura lontanissima dall'uso, orba di tanto spiro. Ha bisogno per chiunque oggi di nona nota a piedi pagina che ti dica che vuol dire orba e che vuol dire spiro. Puoi intuire qualcosa ma non intuisci tutto. E l'esperienza che spesso raccontano queste poesie è un'esperienza per l'appunto di vita oltre l'adolescenza. E per quello che forse recuperarle da adulti o comunque da ex studenti potrebbe essere interessante. Perché nel frattempo abbiamo vissuto e possiamo capire di più. Per questo rimembri ancora il titolo. Ma certo, rimembri ancora perché comunque restano. Oggi non le fanno più imparare a memoria. Non credo che sia una cosa apocalittica. È un dato di fatto. Però anche se non le impari a memoria le incroci e restano lì. Te le tieni in tasca, a un certo punto qualcuno le riattiva. E un libro come questo potrebbe servire proprio a sentire che hanno un senso.